Antonio Carraro è da sempre riconosciuta per i suoi trattori isodiametrici, un prodotto che per il costrittore veneto è diventato una vera istituzione. Sorprende quindi vedere tra i finalisti del Tractor of the Year, un premio annuale del quale se ci seguite già sapete tutto, un Carraro a ruote differenziate. Qual è il motivo di questa scelta e quali sono le caratteristiche che hanno fatto sì che questo Antonio Carraro finisse tra i finalisti di uno dei premi più importanti nel panorama agricolo mondiale? Lo scopriamo dopo la sigla. Un vero viticoltore e lo si riconosce per le dimensioni veramente ridotte delle quali gode il nuovo Tony 11700V. Misure che gli permettono di muoversi agevolmente in qualsiasi tipo di impianto vitivinicolo, anche non di recente concezione. E tutto questo senza disporre di particolari sistemi di sterzo integrale o snodato. Antonio Carraro è da sempre maestro nel inserire quanta più tecnologia e potenza possibile in scocche veramente ridotte. Per darvi un'idea questo 11700V ha le stesse dimensioni del fratello minore 8700V da 80 cavalli. Ma grazie al motore Deutz TCD 2,9 litri da 4 cilindri riesce a toccare i 110 cavalli a 2000 giri e i 450 Nm a 1600 giri. E sotto il piccolo cofano, oltre al propulsore, sono concentrati i sistemi che permettono a questo trattore di essere certificato Stage 5, e cioè l'SCR per l'Urea e il DPF per il particolato. Piccolo ma potente, infatti i dati dell'impianto idraulico potrebbero stupirvi. Tre circuiti separati, uno dedicato unicamente alla trasmissione, uno alla guida e ai sollevatori, e l'ultimo con pompa idraulica variabile a pistoni da 90 litri al minuto, unicamente ai distributori, che possono essere fino a 4 al posteriore e 5 ventrali. La portata accumulativa dell'impianto idraulico arriva a 137 litri al minuto, una soluzione abbastanza sovradimensionata, ma necessaria per il contesto specializzato in cui deve operare questo trattore, che molto spesso sarà impiegato in grandi pendenze, in contesti angusti, e con due attrezzi, uno all'anteriore e uno al posteriore, che richiedono magari il moto idraulico. E oltre agli attrezzi richiede il moto idraulico anche lo sterzo, oltre allo sterzo la trasmissione, eccetera eccetera. Insomma, triplicare i circuiti permette di dedicare ad ogni parte del mezzo la giusta potenza. E questi attrezzi, dove li attacchiamo? Beh, ai sollevatori, quello posteriore da 27 quintali e quello anteriore, opzionale, da 12 quintali. E anche in questo caso, mica poco. La trasmissione è a variazione continua e combina un gruppo idrostatico con un cambio meccanico robotizzato con tecnologia Shift in Motion, che significa cambiata in movimento. E questo sistema complicato di un sacco di tecnologie messe assieme ci permettono nel concreto, nell'ottica dell'utilizzo come un attrezzo, di avere un trattore i cui giri motore sono disaccoppiati rispetto alla velocità. E in ottica di guida, invece, abbiamo un mezzo che ha un range che va dai 100 metri all'ora ai 40 km orari senza perdite di coppia, senza buchi, senza strappi. E questo è dovuto banalmente al cambio toni a variazione continua di velocità. E visto che l'ambiente di utilizzo non è tra i più semplici, qualsiasi sistema possa aiutare l'agricoltore nelle operazioni specializzate nei vigneti è ben accetto, partendo dall'Intelligent Tractor AC, un sistema che memorizza i parametri del trattore durante le lavorazioni e questi parametri possono essere facilmente richiamati a seconda del lavoro che si sta svolgendo o della pendenza che si sta incontrando. Il comportamento della macchina può essere quindi modificato in modo semplice e dinamico dall'operatore senza troppe impostazioni, ma semplicemente premendo un pulsante che già presenta la macchina su un determinato lavoro. L'operatore è ulteriormente coccolato da una cabina che, seppur piccola, perché bisogna pur passare tra i vignali, non puoi fare una reggia di cabina, è comunque tra le più ergonomiche sul mercato, anche grazie a un tunnel centrale che è tipico di questi trattori ribassati, ma che in questo caso misura soli 8 cm di spessore. La cellula di guida è montata su un sistema di sospensione a silent block ed è certificata FOBS e ROBS, oltre a disporre anche della pressurizzazione in categoria 2 o in categoria 4. Insomma, ha tutte le carte in regola, proprio nel senso di carte come certificazioni. Qua sei al sicuro e anche dare i trattamenti non è più un'operazione che può nuocere la salute. Il nostro viaggio nell'universo Antonio Carraro si conclude qui, magari prossimamente porteremo altri finalisti del Trattor of the Year o un video cumulativo per tutti, vediamo come ci organizziamo. Noi ci vediamo mercoledì prossimo alle 17 come al solito con un nuovo video e tutti i giorni su tutti gli altri social dei trattori da TikTok, Facebook, Instagram e il sito Trattori Web, molto importante, sul quale potete approfondire anche questo articolo. Ciao!